Allora, eccoci qui per questo nuovo progetto. Questo è un golfino, troverete le misure per 3, 6 e 12 mesi. Questo ovviamente è per i 12 mesi, come vedete che è il più grande. Allora, è molto grazioso, così con le taschine. L'ho fatto, diciamo, da femmina, con i bottoncini della parte delle asoline, dalla parte per le femminucce. Ho messo qui qualche filo rosso, eccolo qua, che avevo in casa. Allora, mi sono serviti per fare questo golfino, 110 grammi, quindi praticamente 3 gomitoli per 10 grammi, 3 gomitoli. È una lana che si lavora con un 3,5, 3, 3,5. Io l'ho lavorata con un 3,5. Se lo lavorerete con il 3,5 e trovate questa, una lana adatta alla lavorazione 3, 3,5 e la lavorerete con il 3,5, le misure che io vi do saranno perfette per fare i 3,6 mesi. Eccolo qua, questo è il modello del golfino che va, praticamente viene realizzato tutto intero. Allora, come vedete poi vi spiego mano a mano che andiamo avanti nella lavorazione. Oltre a questi 110 grammi di filato e un pochino di questo rosso, servono 4 bottoncini e io ho utilizzato due tipi di ferri differenti, sia questi normali che questi piccolini per fare le taschine. Ovviamente potete, se siete abituati, potete utilizzare anche un circolare, soprattutto quando si fa tutta questa parte qui, che sono molte maglie, ad averle sotto e sul ferro. Che altro dire? Ah, questo lo devo ancora attaccare. Allora, che altro dire? Niente di più di quello che vi ho detto. Ringrazio a tutti di aver scelto questo mio golfino da vedere e da realizzare. Aspetto la vostra iscrizione, anche un like e soprattutto un commento. Ciao a tutte! Allora, iniziamo questo nuovo progetto per un golfino che potrete realizzarlo per 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi. L'importante è avere una lana che verrà utilizzata con i ferri 3,5. Quindi, comprate una lana baby, di solito sono tutte da 3,5 le lana baby, comunque comprate una lana baby che si possa utilizzare, quindi sulla scritta della lana ci sia il consiglio della lavorazione con i ferri numero 3,5. E in questa maniera le maglie che io vi dirò di montare, i centimetri che io vi dirò di fare, saranno perfetti. Quindi questo è proprio un tutorial per i principianti. Io farò un, siccome le mie indipotine hanno 6 mesi, io farò un golfino un po' più grande, quindi non da 3 mesi o 6 mesi, bensì non farò uno da 12 mesi. Allora, cosa fare? Come vedete, vi spiego questo giacchettino. È tutto fatto a maglia rasata, escluso i bordini qua dell'inizio, i bordini delle maniche e il dietro. Si inizia comunque a lavorare dalla parte davanti, non guardate che non è complicato assolutamente. Quindi, per chi vuole fare 3 mesi, monterà 31 maglie, per chi vuole fare 6 mesi ne monterà 33, io ne ho montate 35. Come si montano le maglie? Ci sono vari modi da montare le maglie e vi lascio il link sotto. Allora, guardate, sotto ai video c'è una descrizione, leggetela, perché lì io metto tutte informazioni. L'altro giorno mi ha chiesto una ragazza, eh, quanta lana ci voleva, quanto pesa. Sotto c'avevo scritto 4,5 di lana, non per questo giacchettino, parlo per un altro giacchettino. Quindi, leggete sempre. È vero che ci sono poche righe, ma se voi cliccate su mostra altro, c'è tutto quanto un lenzuolo che scende. Quindi, troverete lì, in questa descrizione, trovate anche il link del tutorial, come si montano le maglie, il link della maglia rasata, il link del legaccio. Io ho montato 35 maglie e lavorerò per 4 ferri solamente, solamente 4 ferri a maglia legaccio. Come si lavora il legaccio? Il legaccio è un ferro al dritto, il secondo ferro al dritto, il terzo ferro al dritto, il quattro ferro al dritto. Questo è il legaccio. Come si fa il dritto? Adesso ve lo faccio vedere in maniera molto, molto veloce. Allora, la prima maglia è sempre, ovviamente, il nostro vivagno e non lo consideriamo. Eccolo qua. La seconda maglia la lavoreremo al dritto. Una, in questa maniera. E faremo, questo sarà il nostro primo ferro, e faremo altri 3 ferri oltre a questo. Tutto qua. Quindi ci rivediamo quando avremo fatto tutti e quattro i ferri. Ecco i nostri 4 ferri a maglia legaccio. Dunque, ora dobbiamo continuare. Per chi fa i 3 mesi, 16 centimetri, cioè arriviamo fin qui. Per chi è 6 mesi, 18 centimetri, arriviamo fin qui. E per me, io farò 20 centimetri e arrivo fino qui. Quindi, 16, 3 mesi, 18, 6 mesi, 21 anno. E arriverò fino qui. Quindi, lavoriamo a maglia rasata. Ho finito i 4. Dovremmo iniziare adesso con la maglia rasata. Dunque, dobbiamo però, nel video precedente dicevo, la parte precedente dicevo le misure, eccetera, eccetera. Però, questa parte qui, queste 4 maglie, le dobbiamo sempre lavorare al dritto. Quindi, maglia rasata all'interno e le 4 maglie sempre al dritto, perché così viene un bordino per mettere le asole e i bottoni. Quindi, le prime 4 maglie le lavoreremo sempre al dritto. 3 e 4. E mettiamo un segno a punti. E proseguiamo, ovviamente, con questo ferro, sempre al dritto, tutto il ferro al dritto. E iniziamo, da qui, la maglia rasata. Seguido il primo ferro al dritto, ricordatevi, la prima maglia non si lavora, l'ultima la lavoreremo sempre al dritto. Iniziamo il secondo ferro, che, come tutti i ferri pari, sarà tutto al rovescio. Quindi, la prima non la lavoreremo, ma la passiamo al dritto. E tutte le altre le lavoreremo al rovescio, fino al nostro segnapunti. Ci vediamo, quindi, al segnapunti, per questo video. E poi proseguiremo, io, fino a 20 cm. Lavorerò, adesso, l'ultima maglia a rovescio di questo ferro. Passerò il marca punti e le altre 4 maglie le lavorerò al dritto, quindi sono lavorate al legaccio. 1, 2, 3, 4. Quindi, ricordiamoci che queste ultime 4 maglie, tutte al dritto, io arriverò, fino a 20 cm, voi fino a 15 o a 18 a secondo dei mesi che state facendo. Ora, siamo arrivati qua, praticamente, io sono qui. Dobbiamo, adesso, fare questo ferro, qui, al dritto, e mi fermerò questo ferro qui, finisce qua, e qui vi farò vedere come aumentare le maglie. Dovremmo aumentarne 33 per chi ha una base di 3 mesi, 37 per chi ha una base di 6, e io ne aumenterò 44, ma lo faremo insieme. Quindi, finisco questo ferro, raggiungo questa parte qui, quindi le aumenti non vanno dalla parte dove ci sono i bottoncini, ma dall'altra parte. Quindi, proseguirò con questo ferro al dritto e ci rivediamo alla fine per montare le maglie. Aumenteremo, ripeto, 33 maglie per i 3 mesi, 37 per i 6, e 44 per i 12. Questo vorrà dire che, alla fine del montaggio delle maglie, avremmo 64 maglie sul ferro per chi è dei 3 mesi, 70 per chi è dei 6, e 79 per chi è dell'anno, per i 12 mesi. Quindi, faccio vedere come montare le maglie, in questa maniera. Metto qui, e lavoro questa maglia, ma non faccio cadere questa, bensì la rimonto e siamo a 1. Di nuovo, faccio così, e sono 2. In questa maniera, questo è proprio come si montano le maglie a inizio, ah, io le ho montate così. Quindi, alla fine del ferro, io dovrò avere 79 maglie, perché sto facendo i 12 mesi, ok? Proseguirò in questo modo. Magari vi volevo scrivere qui le maglie da aumentare, così ce l'avete sotto l'occhi. Allora, sono da aumentare 33 maglie per 3 mesi, 37 maglie per 6 mesi, e 44 maglie per 12 mesi, uguale, le maglie sui ferri saranno 64, 70 e 79. Quindi, quando siamo, questi sono i nostri aumenti, quando siamo arrivati qua, avremo io 79 maglie sul ferro, perché avrò queste, che erano 35, più queste. E ci rivediamo, vi faccio sapere quanti centimetri dobbiamo lavorare, perché dobbiamo arrivare qua e fare lo scollo. Ho montato le mie 44 maglie, adesso continuerò a lavorarle in questo modo. Farò i primi 4 punti sempre tutti lavorati al dritto, come stiamo facendo anche da quest'altra parte, così. Qui erano i primi 4 punti al dritto, tutti gli altri a maglia rasata e gli ultimi 4 al dritto. Quindi adesso inizierò con il dritto e procederò poi con il rovescio. Quanto ancora dobbiamo andare? Dobbiamo camminare ancora finché non saremo, noi siamo qui adesso, quindi dobbiamo arrivare qua e dovremmo andare a 22 centimetri per chi ha i 3 mesi, i 25 per chi ha i 6 e i 27 per chi ha i 12. Quindi io mi fermerò chiaramente a 27 centimetri e ci rivediamo. Ci vediamo, allora 27 centimetri, ma dobbiamo stare dalla parte della manichina qua, del bordo, perché questo è il fatto, è così. Quindi dobbiamo fare le diminuzioni del collo, ma dobbiamo farle da questa parte, non da qua, perché questa è la manica. Ci rivediamo al 27esimo centimetro. Prima che continuate la lavorazione, volevo dirvi una cosa. Dunque, quattro ferri, quindi questi erano quattro ferri, sono un centimetro e mezzo. Quindi misurate, per me sono un centimetro e mezzo, io non lo so per voi, quindi misurate quante quattro ferri e poi un centimetro e mezzo prima della fine, quindi a 20 centimetri e mezzo, adesso sto dicendo un centimetro e mezzo, ma non so quant'è il boi, quindi togliete quanto risulta essere in centimetri questi quattro ferri dai 22, dai 25 e dai 27, quindi io lo toglierò dai 27, quindi io a 25 centimetri e mezzo mi fermerò e farò quattro ferri di legaccio, no quattro ferri, scusate, ma devo fare questo scollo. Quindi mi fermo qualche, un centimetro e mezzo prima, per farvi vedere a voi come fare la base dello scollo, perché dobbiamo fare il colletto, quindi siccome non dobbiamo fare cucitura e niente, il colletto dovremmo farlo come stiamo facendo qui, le manichine, come stiamo facendo qui. Quindi mi fermerò, io adesso ho fatto due centimetri e mezzo, quindi continuerò ancora, altri due centimetri e mezzo, altri tre centimetri, quando ho fatto tre centimetri mi fermo, e così sarà per voi, perché chi comincia da 16 e deve arrivare a 22, sono, e 4, sono 6 centimetri addirittura, quindi ci regoleremo qualche centimetro prima e vi faccio vedere come fare per fare il giro collo. Scusate. Eccoci qua, come vedete ho finito di fare queste maglie qui. Ora andiamo a chiudere in che maniera. Allora, chiuderemo. Chi è ai tre mesi chiuderà 13 maglie, chi è a sei mesi ne chiuderà 15, e gli altri ne chiuderanno 16 per i 12 mesi, quindi io ne chiuderò adesso 16. In che maniera? La maniera è sempre la stessa, quindi lavorerò queste due maglie insieme, le prime due, ecco qua, sempre che riesco a prenderle, lavoro le prime due maglie insieme, ma ripasso questa maglia sul ferro in questa maniera, ed è una. Di nuovo, due insieme, e ripasso la maglia sul ferro, e ne abbiamo chiuse due. Di nuovo, e ne abbiamo chiuse tre. Aspettate che questo lo tolgo. Ne abbiamo chiuse tre. In questa maniera, ne chiuderemo 16. Quindi qui in fondo, che avevamo già considerato, rimarranno 4 maglie. Quindi adesso arriverò fin qui, ecco, chiuderò fin qui, veramente chiuderò anche questa, perché poi questa diventerà la quarta. Quindi, in mezzo qui ci devono stare 4 maglie, perché sono quelle che continueranno nel bordino del collo. Quindi adesso chiudo, e poi facciamo insieme adesso. Come vedete, sono arrivata a chiudere la sedicesima, ma praticamente, questa va rimessa qui, e questa è veramente l'ultima, che va chiusa. Ecco qui. Ok. Continuo a lavorare. Due. Che vanno sempre lavorate al dritto, e manteniamo, quindi, spessare questo lo tolgo, mettiamo questo preferisco, e continuo a lavorare questo ferro. Allora, dobbiamo adesso continuare a lavorare, mantenendo le 4 maglie, che abbiamo all'inizio, come bordino, e sempre al dritto, lavorando a legaccio, mentre tutto il resto, lo lavoriamo, vedete il bordino del collo, praticamente, siamo qua. Questo è il bordino, che abbiamo fatto adesso. Adesso continuiamo a lavorare, ancora, fino all'altezza, di 27 cm, per chi è ai 3 mesi, quindi continuerà a lavorare, ancora, fino ad arrivare a 27 cm, si 27, poi a 30 invece, per i 6 mesi, e a 33, io, io arriverò a 33 cm, quindi, quando sono arrivata a 33 cm, mi fermerò, tutto qui. ci rivediamo, quindi, a quelle misure. Se io vado adesso, a misurare, questo, mettiamolo così, magari, ecco, ecco qua, praticamente, misurando così, questa maglia è venuta un po' troppo lenta, poi la restringiamo, e misurando così, dobbiamo arrivare a 33 cm, io a 33 cm, altrimenti a 30 cm, oppure a 27 cm. Quindi, alla fine, poi, quando avete raggiunto le misure giuste, alla fine del ferro, che abbiamo fatto, è a rovescio, mettiamo le maglie in attesa, potete mettere in attesa, dove volete, se le lasciate su un ferro, ricordate di mettere qui un cappuccetto, per non perdere le maglie, quindi io le lascerò, in attesa, su un classico ferro, di questi fatti a spillone, e ci rivediamo. Allora, adesso abbiamo fatto questa parte qui, diciamo, adesso dobbiamo andare a fare quest'altra, fino ad arrivare, ovviamente, allo stesso punto, dove siamo arrivati, cioè adesso siamo arrivati qui, e dopo arriveremo qua. No, scusate, adesso siamo arrivati, no, la metà, siamo arrivati qua, sì, 33, questo, sì, è il collo, no, 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 siamo arrivati qua, giusto. Allora, dobbiamo fare specularmente, quello che abbiamo fatto fino adesso, cioè rimontiamo le maglie, come abbiamo fatto qui, quindi 31, 33, 35, rimontiamo le maglie, andiamo avanti, ma, le quattro maglie da fare appunto legaccio, invece di farle di qua, le faremo di qua, quindi dalla parte del dritto avremo le quattro maglie, non da questa parte che per me è la destra, adesso non lo so, comunque per voi, comunque l'avrò dall'altra parte, quindi, adesso monterò le maglie, poi vi farò vedere in maniera tale che il dritto qui, e le maglie che camminano, dobbiamo fare la stessa cosa, se ci sono problemi, contate le maglie magari, oppure contate questi binarietti, questi qui chiamo i binarietti, insomma, fatelo in maniera preciso, deve essere identico, quindi identico questo, e identico dall'altra parte, in maniera tale che poi possiamo andare a fare la parte dietro. Mi sono riretta le istruzioni, sì, siamo arrivati in questo punto, siamo arrivati qua, quindi adesso dobbiamo proseguire, ed arrivare fino qua, quindi questo era il collo, tutto a posto, qua. Ho lavorato le prime quattro maglie a legaccio, le prime quattro ferri, scusate, a legaccio, e un altro ferro al dritto, perché altrimenti, non, stiamo lavorando da quest'altra parte, e non viene uguale, vedete, adesso è uguale, due e uno. Adesso però, io devo andare a fare il rovescio del lavoro, quindi, diciamo che, le quattro maglie, da lavorare al dritto, sono queste prime, ok? Quindi, queste prime le lavoreremo al dritto, e poi faremo tutto il ferro, al rovescio, e manterremo poi, la lavorazione di queste maglie, fino a questa altezza, qui andremo poi, a misurare, con questo, che dovrà essere preciso, ovviamente, aspettate, ovviamente così, cioè dobbiamo arrivare qua. Allora, inizio, le prime quattro al dritto, e vado e proseguo, con queste a rovescio, ovviamente, dall'altra parte, avrò, la maglia rasata, mentre questo sarà, il rovescio, del golfino, ok, riprendo la maglia, e ci rivediamo, poi all'altezza, qui. Solo dirvi, che, mentre in questo ferro, qui, lavoravo, in quest'altro pezzettino, di maglione, lavoravo, le prime quattro maglie, al dritto, sul dritto del lavoro, quindi ce l'avevo, da questa parte, adesso ce l'ho sulla fine, quando lavoro, al dritto, le maglie, sono alla fine, al rovescio, sono al dritto, e sono post post, ok, ci rivediamo, all'altezza, mia, di 20 cm, per voi, a seconda, della taglia. Eccomi qui, sono arrivata, a lavorare, fin qua, cioè, siamo arrivati qua, adesso dobbiamo, riattaccare, i nostri, i nostri, i due pezzi, il sinistro, e il destro, quindi, io lavorerò, adesso, questo ferro, qui, mantenendo, ovviamente, le quattro maglie, sempre, lavorandole, al dritto, poi, monterò, 26 maglie, io, 26 maglie, allora, 20 maglie, per la prima, per i tre mesi, 20, dunque, 20 maglie, 24 maglie, per i sei mesi, e 26 maglie, per, 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 un anno, quindi, io monterò, 26 maglie, qua, semplicemente, lo facciamo insieme, allora, per quanto riguarda, questo ferro, invece, che vedete, è a rovescio, cioè, io dovrei lavorarlo così, perché, finiva qua, da questa parte, e invece, io lo devo riprendere, da questa parte qua, quindi, lo passerò, sul ferro, questo, questo qui, da qua, in maniera tale, che ritorna ad essere, così, con il dritto, quindi farò, intanto, questo ferro, e arriverò fino qui, poi passerò, questo qui, sull'altro ferro, e ci rivediamo, ovviamente, prima ho lavorato, questo ferro, e poi, quando avevo, l'altro ferro libero, ho passato, il ferro, allora, ho passato, le maglie, adesso, andiamo ad aumentare, io, 26 maglie, 26, 20, 24, 26, a secondo la misura, quindi, in questa maniera, semplicemente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26, adesso, andrò, a riprendere, questo, questo filo, adesso, lo passo, insieme, appunto, non li ho tagliati, di prima, in questa maniera, e poi, lo taglierò, adesso, ok, sì, allora, adesso, le prime quattro, questa è la prima, quindi, seconda, terza, e quarto, andrò, a mettere, o marca punti, e poi, lavorerò, le altre, così, in questa maniera, ecco, fatto, fino in fondo, adesso, finito questo ferro, dovremmo proseguire, su tutte queste maglie, tutte, quindi, stiamo facendo, sia le maniche, che il collo, sia la manica destra, che il collo, che una parte, del dietro, e continuiamo, e finiamo, questo ferro, ecco qua, tanto per capirci, come siamo messi, allora, come vedete, questo è il davanti, ed è così, ok, adesso dobbiamo, fare, tutta questa lavorazione, cioè tutte queste maglie, chiaramente, mantenendo, le quattro maglie finali, sempre al dritto, sia da una parte, che dall'altra, perché sono il bordino, della manica, e facciamo, scusate, quattro, ferri qua, cioè sempre lo stesso, come qui, sempre lavorandoli, tutti al dritto, in questa maniera, per fare il giro del collo, e poi continuiamo, per i 12 mesi, continuiamo, fino a che, tutta la misura, questa, sarà, così, di 44 cm, per i 12 mesi, di 40 per i 6, e i 36, 36 cm, per i 3 mesi, quindi, continuiamo, così, e ci rivediamo, quando abbiamo realizzato, queste misure, in centimetri, da, qui, a qui, sono arrivata, alla lunghezza, di 44, come doveva essere, per l'anno, ora, andiamo, a chiudere, praticamente, siamo qui, dobbiamo chiudere, queste maglie, vi ricordate, che erano, 36 per i 3 mesi, 40 per i 6 mesi, e 44 per i 12 mesi, quindi, io, io, ne chiuderò, adesso, 44, da una parte, poi, lavorerò, le maglie centrali, tutte, fino in fondo, e, tornando indietro, ne calerò, altrettante, 44, chiaramente, voi, a seconda dell'età, chiudete le maglie, e, rimarranno, solo, queste maglie, centrali, quindi, che dovrebbero essere, se non sbaglio, vabbè, non mi ricordo, adesso, vedo, e poi ce lo scrivo, qui, così, tornando indietro, vi dico, quante maglie, devono rimanere, qua, chiaramente, ah, ecco, dovrebbero rimanere, una settantina, di maglie, per me, e, 66, per chi, ha i 6 mesi, e, 62, per chi, invece, ha i 3 mesi, più o meno, insomma, però, chiudiamo queste, chiudiamo quest'altre, e, rimarranno, solo queste, che dovremmo, poi, lavorare, e poi, vi dirò, per quanti centimetri, ecco qui, allora, adesso, si comincia a vedere, proprio, il golfino, queste sono, le manichine, e, se lo pieghiamo, così, vedete, adesso, è dalla parte del dietro, praticamente, questo, sarebbe il collo, queste sono, le manichine, non so se, si vedono, ecco, questo è il davanti, e qui, ancora la manica, ecco qua, adesso, dobbiamo, lavorare, tutta maglia rasata, semplicemente, senza fare bordi, nessun bordo, e scendere giù, fino ad arrivare, in fondo, a, praticamente, questi, giri, prima, in maniera tale, da fare questo bordino, anche sul dietro, e poi, chiudere, le maglie, credo che, la lunghezza, totale, adesso, ve la dico, perché me la sono segnata, sono, 52 cm, in totale, per i tre mesi, 57, per i 6, e 63, per l'anno, quindi, 63, 57, e, 52, come giusto, quindi, continuiamo così, ovviamente, qualche, ferro, prima, ci fermiamo, con la maglia rasata, e faremo solamente, il punto legaccio, e il nostro golfino, è quasi finito, diciamo così, mancherebbero solo, i bottoncini, e le taschine, eccoci qui, ho finito di fare, anche il dietro, come vedete, aspettate, che qui tolgo i bottoncini, vi faccio vedere, ecco qua, vedete, finito anche tutto il dietro, ho cuscito, le parti qui, voi cusite, devo cuscire di qua, volevo solo farvi vedere, un pochino, come io cucio, però, voi cusite come siete, capaci a cuscire, senza problemi, perché, allora, non sarebbero loro, da principianti, allora, poi che ho fatto, dunque, ho scelto di fare, anche una taschina, così, allora, e poi ho scelto, i bottoncini, per fare contrasto, con la taschina, e anche con la manichina, vedete, che riprende un pochino, e la sistema un po', allora, per fare le taschine, parliamone, per fare le taschine, ho montato, 14 maglie, 14 maglie, montate ne 14, perché, io, è un anno, però, montate ne, non so, 12, 10, per i più piccolini, insomma, per fare una taschina, più piccolina, e, l'ho fatta, di 20 giri, io, però, voi ne fate 18, oppure 16, perché, chiaramente, se no, insomma, la taschina, la misura della taschina, non è una cosa, proprio, essenziale, se volete non farla, non la fate, insomma, vedete voi, come meglio preferite, allora, io farò adesso, la taschina, e poi, vi faccio vedere, come l'ho sistemata, qua, intanto, però, vi volevo far vedere, come cucire, il, il giacchino, e, non so, ancora, io, sto utilizzando, tre, tipi di, tre, gomitolini, però, chiaramente, uno è ancora intero, vedete, questo qui, è ancora intero, quindi, non so, quanta ne può servire, ancora di lana, però, poi, alla fine, vi farò, peserò, il tutto, così vedremo, quanto, quanta lana, mi è servita, non la peserò, una bilancia, che pesa i grammi, quindi, vediamo, ma sicuramente, un etto, e 20 grammi, insomma, non di più, allora, come cucio io, di solito, ho imbastito, qua, ho tutto imbastito, vedete, allora, io cucio dal dritto, di solito, cucio dal dritto, però, io ripeto, ognuno di noi, ha una sua, tecnica, io ho visto tantissime, di tecniche, per cucire le maglie, quindi, voi, fate come, di solito, siete abituati, a fare, perché, se è la prima volta, che lavorate, a maglia, a maglia, comunque, se lavorate, anche all'uncinetto, sapete, come si, si fa, ecco, allora, dopo, fermerò, bene, questa codina, allora, io faccio così, vedete, questi, anellini, che abbiamo fatto prima, no, abbiamo creati noi, con il vivagno, ecco qua, io vado a riprendere, l'anellino, una volta, lo prendo, da sotto, e una volta, lo riprendo, da sopra, in questa maniera, ecco, tutto qua, quindi, io continuo, così, a cucire, ecco, questo, lo prendo, così, o anche, così, ecco, che è meglio, ecco, e continuo, così, a cucire, nascondendo, le codine, togliendo tutto, e facendo tutto quanto, quando poi ho finito, adesso cucio tutto, vi faccio vedere poi, sia la manichina, che i bottoncini, dunque, per quanto riguarda, l'asole, che noi, non abbiamo fatte, ma io non l'ho fatta apposta, dunque, se volete fare un golfino, da bambina, da bambina, le asole vanno, dalla parte destra, da maschietto, la parte sinistra, io, non la rifaccio, perché, non vale la pena, quando è un lavoro, così, da bambini, non vale la pena, stare a fare, le asole, ecco, io, basta fare un pochino, così, vedete, e il bottoncino, passa, e una volta, che è passato, una volta, rimane, comunque, il segno, dell'asolina, rimane, diciamo, più grande, e quindi, non c'è bisogno, di stare proprio, a fare l'asola, ecco, vedete, questo passa così, ci vuole, ecco, poi sono piccoli, i bottoncini, tutto qua, allora, ricordate, a destra, l'asola, per i maschietti, per le femminucce, scusate, a destra, l'asola, per le femminucce, a sinistra, per i maschietti, se al maschietto, questa la vedo, molto femminile, se al maschietto, non ce lo volete fare, questo non lo fate, non fate neanche, il giro questo qui, se no, fatelo, magari ci mette dell'azzurro, invece di rosso, insomma, questo, alla fine, poi dopo, queste sono le vostre, idee, e soluzioni, allora, il giacchino è finito, io vi ringrazio, di aver visto il video, fino alla fine, ah no, e vi voglio far vedere, la taschina, sì, sì, quindi niente, allora, un attimino, faccio questi 20 giri, e vi faccio vedere, la taschina, quindi, comunque, nel frattempo, se lasciate un like, e un commento, e vi scrivete, non mi dispiace, ok, ci vediamo tra un pochino, quando ho finito di fare, la taschina, allora, ho attaccato i bottoncini, fatta la, taschina, che adesso, chiuderemo, mi sono infilata anche gli aghi, uno in bianco, e uno in rosso, allora, chiudiamo, in questa maniera, io, faccio sempre, così, allora, è come abbiamo chiuso tutto, il golfino, eh, non è che ci sono state cose cambiate, questo è, quindi, chiudiamo, qua, la taschina, e vi faccio vedere, come montarla, e, come, aricciarla, ok, vado a chiudere, la taschina, ho chiuso, anche, la, tutta quanta, la, la taschina, allora, la parte dove ho chiuso, è questa, vedete che ci sono, queste, queste caterelle, questa truciolina, che si vede, allora, iniziamo, a, punti, punteggiare, impunturare, questa, tutta questa parte, questa la lasciamo un po' più lungo, così, ecco, vedete, proprio, bordo, bordo, impunturiamo, tutta la, taschina, facciamo tutto il giro, così, ecco, non importa, quanto sono lunghi, i punti, insomma, una cosa normale, niente di, di allungo, è troppo corti, né troppo, è una cosa così, giriamo tutto intorno, intorno, ecco, così, fino ad arrivare, dall'altra parte, ecco qua, piano piano, ce la possiamo fare, ecco, ecco qua, ora, non resta che tirare, da tutte e due le parti, vedete, fino a che qui, ecco, non si arrotonda un po', aspetta perché, devono essere uguali, eh, ecco qui, ecco, vedete, eccole qui, eccola qui la taschina, non so, eccola, quindi la mettiamo, para para, così, con stessa distanza, l'una dall'altra, ecco, una distanza, e con il filo che ci ha avanzato, la cusciamo tutta intorno, mi raccomando, che sia la stessa distanza, anche la stessa grandezza, ecco qua, facciamo questa cosa, come vedete, l'ho firmata con le spille, ed ora, piano piano, appunto indietro, si chiama così, la fermo, ecco qui, molto semplice, ci divertiamo a fare le rifiniture, queste, ognuno le farà del colore, a suo piacimento, allora, facciamo così, lasciamo un codino, una codina, un po' lunghetta, che ci serve dopo, allora, e facciamo così, ecco, sempre queste impunture, molto delicate, aspettate, ecco, finisco, ecco qua, preferisco andare fino, e adesso, rientro, proprio dove, da dove sono uscita, vedete, ecco qua, e ci ripasso sopra, in maniera tale, che viene un po' più marcata, la linea, ecco, ecco qua, questa la facciamo passare sotto, e la andiamo a fermare, all'interno, portandoci dietro, anche questa codina, in questo modo, ecco, ecco qui, in maniera tale, che non sfugge, magari poi facciamo anche un nodino, un nodino, proprio piccolo, piccolo, e abbiamo finito, se volete, mi sta venendo in mente adesso, potete anche, magari fare un fiocchettino qua, anche questo sarebbe carino, ok, adesso andiamo invece a fare, la manichina, la manichina, come vedete, questa qui, poi cercheremo di farla uguale, sempre con questa in puntura doppia, tutta intorno, ecco, in questo modo, niente di più, molto facile, si fa presto, poi lo giriamo, e ripassiamo un'altra volta, come avevamo fatto, dall'altra parte, allora, io non ho un ago senza punta, però, con un ago senza punta, secondo me, viene molto meglio, però, non è che non viene, è uguale, ecco qua, come vedete, siamo quasi per finire, ecco, ce l'abbiamo quasi fatta, intanto che aspettiamo, che finisce, se vi va, magari lasciate un like, un commento, che mi farebbe veramente, molto piacere, allora, sto ripassando, un'altra volta, ecco, intanto, stringo un pochino, ecco, poca roba, non stringete tanto, un pochino, intanto, che viene un pochino, di arricciatura, questo lo sto facendo, ovviamente, per le femminucce, per i maschietti, potete anche, non metterlo, questo, oppure, come dicevo prima, magari metterlo, di un altro colore, non lo so, vedete voi, però, per le femminucce, la manichina arricciata, ci sta, per i maschietti, un po' meno, veramente, per le femminucce, ci sta tutto, sono i maschietti, che hanno sempre, un po' più di regole, allora, abbiamo quasi fatto, ecco qui, la ricciaturina, la passiamo, un po' da tutte le parti, ecco qua, potevamo anche, mettere il filo doppio, senza rifare, il passaggio, però, pure così, abbiamo fatto, ecco qua, io direi, proprio, che abbiamo finito, basterà adesso, fermare queste codine, e, aspetta, faccio un nudino, e poi fermo le codine, ecco, ecco qua, in merceria, vendono anche, degli elastichetti, fatti a filo, che magari, potrebbero andare benissimo, allora, intanto, all'inizio del video, vi dico anche, quanto pesa, perché adesso, lo sto andando a pesare, adesso, è da lavare, da stirare, e poi, è pronto, per la consegna, mia figlia, ok, grazie, per aver visto, il mio video, fino alla fine, e, lasciate anche un like, un commento, come vi pare a voi, e iscrivetevi, al canale, grazie ancora, ciao a tutti,